Com'è che fa? Aspetta Ma voi avete mai avuto una regina in studio? Io ce l'ho, la regina di spot, Gisella Crozzo, buongiorno Gisella Good morning, buongiorno a tutti voi, ma che bello Ma avete mai avuto una regina che canta e canta alle 7.49 del mattino? Ecco diciamolo, così mi riscaldo la voce un po' So che per voi cantanti farvi svegliare a quest'ora è difficile Ma vi cantare ancora di più, tu sei venuta qui Mi ci saranno per raccontare una delle storie più incredibili che abbia mai sentito È un pezzo della mia gioventù che ho qui di fianco a me Io me la ricordo questa canzone, voi l'avete riconosciuta questa canzone? Avete capito con chi siamo qui a parlare? Gisella, la regina degli spot Ciao a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori e i telespettatori Ricordiamo che ci potete vedere, ascoltare e poi riascoltare Ormai è un casino sta roba Perché ovunque ti giri c'è qualcuno che dice Ti ho sentito quando? Ieri, oggi, domani? La replica è sempre molto bella Ovunque, ovunque, ovunque Io sono veramente onorata di essere qui, grazie per l'invito Insomma, questa qui è una nuova versione, giusto? Un remake, un remake, un remake, come vogliamo chiamarlo? Un remake e un remake, è la stessa cosa Ma un remake è una nuova versione Ma diciamo che l'abbiamo fatta in modo remix Con DJ Maxwell Ed è stato un bel regalo E l'abbiamo veramente voluto produrre per regalare questo trentennale DJ Che è lo spot della Coppa del Nonno Di questa qui, per intenderci E questo sei tu? Sono io Nel 94 andò in onda Ma questo è stato l'inizio, l'incononamento o il punto? L'inizio, sì, la partenza Trenta secondi, poi grande successo della pubblicità Hanno richiesto il nuovo, diciamo, la versione lunga Ah, vedi Che poi ha fatto licenze in giro per il mondo Andato su Radio DJ per un mese, sulla Top Chart Ed è nella compilation anche di Linus, mi ricordo, nel 95 È la prima compilation che fece degli spot È stato un brano che in quell'epoca lì, degli anni 90 Rappresentava proprio questa allegria Ma sì, è iconicissimo Voglia di essere allegri, no? Spensierati con questa giostra E per me era proprio un inizio Diciamo questo pezzo mi ha un po' incoronato, se vogliamo Usiamo Regina Amica per altro, perché la corona ce l'hai di diritto ormai, no? Diciamo che questa era una delle prime E poi magari racconteremo le altre Perché poi, infatti, dicevo, questo è l'inizio poi di una carriera Che ti ha portato a fare delle canzoni che sono complicate proprio Perché sono veloci, sono brevi Devi esprimere tutto in quello sparo, no? Pum, così deve essere Sì, e diciamo la pubblicità in quei 30 secondi Devi mettere l'intensità di tutto quello che bisogna promuovere Quindi deve essere orecchiabile, deve essere gimmicky Vuol dire molto slogan, no? Molto proprio le parole, i suoni Devono rimanere in testa come Chi pulisce più di Jean-Claire? Avete capito chi abbiamo qui di fianco? Avete capito? Per esempio, no? Questi suoni, queste orecchiabile cose Melodie Rio casa mia Ammonica detergente super profumata E poi Gisela, la cosa interessante appunto È che noi pensiamo Che poi questa qui è andata su TikTok alla grandissima Ma sono fantastiche Ecco, la sfortuna diciamo È stata di non aver avuto TikTok 30 anni fa Perché se no queste qui diventavano trend Sì, anche i social non c'erano Sarebbero diventate subito trend Però sai cosa mi dicono? Sì, mi dicono che Più gli anni passano Più diventano ancora più magari importanti Iconici, come dici tu Che diventano ancora più preziosi Nella memoria della gente E quindi quando mettono un volto A queste pubblicità E mi vedono dal vivo Durante gli spettacoli Con il big screen dietro Con lo spot dietro E io che li canto dal vivo E proprio mettere il volto Con questa musica Con questo jingle E dico Ma è lei E quindi sì È Gisela Cozzo ragazzi È proprio lei È proprio lei È proprio lei con Tra parentesi delle squadre Io ho visto Su YouTube si trova di tutto Su di te Gisela Ci sono tantissime interviste E ho visto anche delle bellissime interviste Che hai fatto tu Con coloro che c'erano dietro A questi spot Bravissimo Tu hai fatto i tuoi compitini A me gli faccio i compiti Allora diciamo Quando è arrivata Gisela In studio fa Ma non hai niente davanti Come foglie No tranquilla Eh ma perché faccio i compiti prima Ma sei bravissimo Per quello Sei bravissimo Sei bravissimo Quando arriva la regina Uno si prepara Scusa È un piacere Perché È bello raccontarsi In modo proprio Come si fa E tu stai facendo un bellissimo lavoro Ti ringrazio Volevo dire Di questa è la mia vita In uno spot Praticamente abbiamo fatto Un fan Mi ha proprio chiesto Vogliamo fare Il backstage Di tutti gli spot E chi veramente c'è dietro E quindi ho Chiamato tutti i miei compositori Collaboratori Facciamolo Facciamolo E l'abbiamo fatto E poi anche su Joy La Coppa del Nonno Con Luciano Ripamonti E Antonella Guzzi Che sono i miei collaboratori E autori Di questo brano Abbiamo fatto lì Un bellissimo episodio Su Joy Potete andare a vederlo Su mio canale YouTube Con tante belle interviste Infatti E la cosa che mi ha colpito È che Lo immaginavo Però magari Come diceva Lo spot Una roba Cioè Vuoi mettere il grande disco Vuoi mettere la grande canzone Ma ci sono dei professionisti Dietro che sono pazzeschi Cioè Il grande Il grande compositore Che poi Si presta O meglio È lo spot Che lo va a cercare Perché vuole la grande qualità Devo dire Una carrellata Di compositori Della creme Della creme Della pubblicità In advertising Italiano Quindi Da Mario Saroglia A Mario Guarnera A Flavio Iba A Ferdinando Arnaud A Armando Testa Franco Godi Tantissimi Che mi hanno voluto In questi anni Come rappresentante Della voce Di tanti brands Che sono onorata Di aver rappresentato Con la mia voce È una cosa bella Che mi è successo Anche Con Yoko Ono Che scelse La mia voce Per Enel Mi ricordo Power to the people Per cantare Il brano di John Lennon In questa pubblicità Non Fabio Ranfi Che dice Siamo tutti uguali Siamo tutti uguali Come ha funzionato Ti hanno telefonato Ciao sono Yoko No 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 Come funziona Magari Ciao La casa di produzione Il musicista Insomma Hanno fatto un casting Di voce Come si fa La mia è stata scelta Sono stata veramente onorata E la pubblicità Mi ha dato tantissimo Perché io sono una cantautrice Quindi scrivere canzoni Scrivere pubblicità Scrivere colonne sonore Nella mia vita Anche per tantissimi Anche italiani E americani È tutto un percorso Di una carriera Di un artista Che ti può aiutare Ad essere quello Che si è oggi E tutte queste esperienze Mi hanno fatto Diventare quella Che sono oggi Sempre me stessa Sempre molto focused No? È fondamentale Di quello che si vuole fare E per progettare Altri progetti Ma questo volevo Veramente farlo Traguardo di 30 anni Di gioia Con questo remix E portarlo anche In giro in Italia Sicuramente dopo Lo riascoltiamo anche Tanto non si fa in radio Questa cosa Ma io la faccio Mi interessa La rimetto Anche me Salve presidente Che ci sta ascoltando Il presidente che sta in radio Buongiorno Buongiorno Good morning Buongiorno Good morning presidente Adesso Andiamo un attimino in pausa C'è il giornale radio Ce lo ascoltiamo insieme Stiamo qui Io ti farò altre 800 milioni di domande Così dopo Faccio l'upgrade Ai compitini che ho fatto a casa Va bene Quindi state con noi Seguiteci Ci mangiamo una coppa del nonno Magari Dimmi che non ti piaceva Ti prego Dimmi che non l'hai mai mangiato In vita No 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 Ti piaceva L'ho mangiata Sarebbe stato il massimo Preferisco nocciola Però va bene Infatti va bene Ma quando hai fatto lo spot Ti hanno dato un frigo pieno di copernone Ma si Frigo ripori pieno Neanche una Come Allora adesso Chiamiamo Adesso chiamiamo E chiediamo il Il debito Quanto è già fatto Non mi chiamano più Basta Basta Torna anche quello Il vintage What comes around goes around It's true È vero È verissimo C'è gente che Io ho visto Ho visto cose Che voi umani Ho visto petizioni Per far tornare il mottarello Cioè quindi la gente La gente No ma c'è nel supermercato Il jingle che non c'è Infatti quindi Quindi non si sa mai Oh Gisella Change.org Una bella petizione Per far tornare anche Joy Come Io Io Così Faremo Ok Ma guarda che ormai Con il marketing La gente si inventa le cose più assurde No lo so Quindi cioè Questa sarebbe anzi quasi normale Mi viene da dire Per i tempi che Corriamo Gisella Cozzo con noi La regina Degli spot pubblicitari Ancora qui con noi Dopo il giornale radio Dopo una piccola pausa Sempre qui su Crystal Radio Sui 96.2 FM Dub Plus Poi c'è l'app E poi se volete E adesso Perché poi il problema è che alle 8 La gente dice Noi entro in ufficio Vabbè Dopo ci riascoltate C'è il podcast Anche su Spotify Quindi potete rivederci E riascoltarci Anche su Spotify Su Youtube E sul nostro sito Goodmorning.milano.it Ed eccoci di nuovo Qui in diretta Su Crystal Radio Goodmorning.milano Gisella Allora Gisella Cozzo La regina Degli spot E' fantastico Perché poi Quando inizi a fare la lista Non finisci più Praticamente Sì sono tanti Hai fatto un conto Di quanti più o meno Perché è impossibile No perché tra Gingos Radio Gingos Televisione Per nazionali e internazionali Sigle Televisive Colonne sonore Sono tanti Ed è bello essere Diciamo Aver fatto tante cose Per ampliare anche Il know how Di questo mestiere Perché sono tutte skills Ma come funziona Come funziona Skills Attrezzi del lavoro Diciamolo Come funziona Come funziona Io diciamo All'inizio mi chiamarono Sai chi? I fratelli La Bionda Ok Te li ricordi? Italo Dance One for me One for you Sì Loro facevano un sacco Di pubblicità all'inizio E chiamarono Anche tantissimi artisti E tanti hanno registrato Anche presso il loro studio Logic Studios Ma queste pubblicità Erano veramente Diventavano Molto importanti Per promuovere Una brand All'inizio E facevano sì Che fossero originali Queste canzoni E non Non A volte Mi chiamavano Per fare anche Dei cover Dei cover Sì Tipo Kellogg's Belinda Carlisle Oh baby Do you know What that's worth E quello era Ma quella cosa lì appunto È una cosa che si usa spesso Negli spot Di rifare il pezzo famoso Allora quando non ci sono i diritti E il copyright Cercano di risparmiare Perché le case Edito Edizione L'edizione diciamo The publishing Non danno il permesso Quindi prendono una persona Una cantante Che fa un soundalike Che è una cosa molto simile O anche una cover proprio Io ne ho fatte tantissime Infatti Io ho pensato Ne ho fatte tanti 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 Alcuni sembrano praticamente L'originale quasi Sì Si cerca di avvicinare Più possibile E lo fanno anche tutt'oggi Perché non tutti danno i diritti E quindi Io ne ho fatte tantissime Negli anni È stato anche molto bello Fare questi cover E rappresentare questi artisti Attraverso la pubblicità E usavano moltissimo Le canzoni Edite già fatte Famose Ricantate insomma E quindi E quindi E quindi Quindi Gisella Allora ancora appunto A raccontarci A parlare di questi spot Trent'anni Trent'anni di joy I feel good I feel fine Dello spot Della Coppa del Nonno Andò in onda Nel 94 E siamo qui nel 2024 A festeggiarlo Con un nuovo remix Che abbiamo già fatto sentire Prima E con una tournée The Joy 30th anniversary tour Quindi va in tournée Allora vi voglio sapere Cosa potremmo Cosa dobbiamo aspettarci Da questa tournée Io ho paura quasi Di saperlo Devo dire la verità Allora la prima È già andata A Falcomics A Falconara Marittima È uno show Molto variegato Con tutti i miei spot Che canto dal vivo Con la pubblicità dietro Al led wall Con lo schermo dietro Dove io canto Le mie pubblicità dal vivo Li faccio vedere Li racconto un po' E poi Canto le mie canzoni E ci sono anche In me i super A Joy Boys Come li ha chiamato Il mio grandissimo amico Alessio I ballerini Che mi Sono con me E balliamo insieme Ed è una coreografia È uno show Molto Molto Secondo me Allegro Ecco Vorrei portare Tanta allegria E spensieratezza In questo show E stiamo facendo Tantissimi Cosplay festivals Anche Quindi Il primo è andata A Falcomics La prossima è In Puglia In Puglia Mallfest La prima edizione Io vi aspetto Il 29 di giugno Sì Ma aspetta Tu l'hai buttata lì così Come fai i comic The festivals cosplay Ma anche tu? Sì Sono entrata in questo mondo magico Ma da quest'anno E sono felicissima Qual è il tuo cosplay Cavallo di battaglia? No Io non Fai Gisella Gisella La bella Gisella la bella Gisella la bella La regina degli spot Com'è? Infatti Fatti la sorta Com'è? E questo Io quando Cioè La prima volta Che sono entrata A Falconara Ho detto Wow Guardate tutti questi Questi cosplayers Guardate tutti gli istruttori Che fanno i comics Che disegnano Che scrivono I libri Questo fantasy world No? Perché è un mondo Bellissimo Mi diverto un sacco E sono onoratissima Di entrare in questo mondo Per la prima volta Il mio debutto è stato Il 25 Il 25 maggio A Falcomics A Falconara È stato bellissimo A fine giugno Siamo a Mallfest Poi a San Marino Comics Siamo a Chiaveri in cosplay A Pescara Insomma Tantissimi di questi Ma poi sono anche Posso anche dirlo Fresco 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 Una data nuova La Festival Cinema Italiano A Patti In Sicilia Fantastico Ti vedi dei posti pazzeschi Anche perché insomma Uno più o dell'altro Posti bellissime Non hai capito Parlo con Elisa La mia producer Non è che va al Festival Di Grattosoglio Al Festival Della Bruschetta Di Quattogeno Ma la regina dove deve andare La regina dove vogliamo portarla Infatti No scherzo Sono veramente onorata Ricordami bene Appunto Come sarà composto Per appunto lo spettacolo Dicevi Ci sono i miei spot No Ci sono gli spot Ci sono i miei ballerini Questa volta Non ho la band Ma ho uno show Veramente pieno Di canzoni 80-90 Delle mie regine Le mie idole Come Whitney Houston Diana Ross Donna Summer Metto tutti questi Dance Dance Della dance music Anni 90 Le mie canzoni Di spot tv I miei ballerini Festivals cosplay E in giro per l'Italia Con la tournée 30th anniversary Joy 30th anniversary Arrivano anche i whatsapp Ovviamente Che ti salutano E si complimentano con te Nello ci dice Salutaci Gisella Grazie Joy indimenticabile Però posso dire Joy effettivamente Iconi Però ti canta anche le altre E dici Ah Anche quella Sensazione unica Che gusto Il feeling che c'è Una coca cola You can't beat the real thing Perché questo anche in inglese L'ho fatto Cioè capite che ha fatto Lo spot Per cui io poi Ho perso la trebisonda Io sono un collezionista Di lattini di coca cola No Cioè capisci che quindi Ma dov'è la collection Che ti faccio lo spot Ah sì 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 Adesso ti faccio una foto Davanti alla mia collezione Di lattini Allora E poi vabbè Ho fatto tantissimi Mountain high And mountain of love Levissima Pensate E poi Paripa Pararipa Ripa Poste italiane Ma è una cosa Che mi sconvolge No perché poi Mi devo ricordare Devo avere la lista Perché mi dimentico Non è che lo faccio apposta No te le ricordi Cioè E poi vabbè Adesso fa caldo Ma di solito Io mi faccio Una bella cioccolata calda When it's cold and windy And it's cold outside There's a funny feeling That you just can't hide C'era Luca no Che imitava Tutta la gente In casa Ma non era la stessa Dove poi c'era quello Che faceva il cuoricino Sulla finestra Perché c'era la neve E quello è E quello lì Sono proprio vecchi Ragazzi Sono vecchi E quello lì E quello lì Ma in vicina è come Veramente E penso anche voi a casa Mentre Gisella canta In testa In testa Ti parte lo spot C'è una cosa che è molto bella Tu infila il supermercato Ti sblocco il ricordo Ti sblocco il ricordo Come dicono i miei Tutti i miei TikTok Ti sblocco il ricordo Tu ne hai da sbloccare qua Cioè tu sei veramente Una scassinatrice di ricordi qua Li facciamo saltare Ci scrivi anche E lo conosci benissimo Il nostro collega Ambrogio 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 How are you darling And thank you Ecco che dice Grande Gisella La personificazione Dello spot della gioia Infatti tu sei la regina di spot Ma sei in un spot tu Per la gioia Quello sicuro Cerco di portare sano Portatore sano di gioia Un vulcano di positività È vero Ragazzi sono le 8 e 20 del mattino Cioè dalle 7 che qua Ma hai dato un caffè Che proprio Dir così Che poi mi arriva la digos A vedere cosa metto nel caffè Cosa mi hai messo Infatti Cosa mi hai messo nel caffè Non mi ricordo C'era una canzone Devo fare un jingle Ricordiamo bene però appunto Quando parte il tour Già partito Ok Il 25 maggio è la prima L'abbiamo già fatta Mall fest Siamo al 29 di giugno Poi siamo C'è in regia Qualcuno che mi dice San Marino A fine sette No San Marino a fine agosto E poi abbiamo Chiavari in cosplay E poi Pescara Dobbiamo ancora definire Ma siamo lì E poi siamo al festival Del cinema italiano Fresca fresca Il 2 di luglio Quindi tutte le mie date Mi piacerebbe che mi chiedi Adesso con la roba lì C'è qualcosa che Che ci dimentichiamo Perché ancora canto? Ah ecco Vedi Vedi Perché io ho Un grandissimo rispetto Per la musica Per quello che ho fatto Dall'inizio Per quello che mi deve Ancora succedere Ho tanta passione Amore per questa Grandissima musica E l'arte E sono onorata Di essere qui Dopo aver vinto Un concorso nazionale Di talent A 16 anni 40 anni fa Fate i conti Quindi I'm very very honored Onorata di essere qui E festeggiare Il trentesimo Anniversario Di Joy Joy I feel good I feel fine Cause I know My loving heart Is all you need It's such a joy To see E questa fa parte Della coreografia Joy To see Perché giustamente C'erano in tour E hanno anche i ballerini Quindi c'era anche la coreografia E chi si sa mai Che in punto con il TikTok Magari Riusciamo a far diventare Un trend Esatto In più diciamo Prima appunto La dance La musica che tu ami tantissimo Ho fatto anche tanta dance Negli anni 90 Sta tornando O sbaglio Sta tornando alla grande Tantissimi giovani Hanno anche Mettono come riferimento Diciamo Le producers Usano moltissimo Questi mashups Di diversi artisti Anni 90 E poi usano Lo stile Anni 90 I synthesizers Tutti le Diciamo Riferimenti Anni 90 Li usano Nelle loro produzioni Perché se tu Li hai già sentiti Certe melodie E certi suoni E' già venduto il brano E' già un grande successo E questo è il segreto Credo Oggigiorno Noi sentiamo Tutti questi brani Italiani Internazionali Che sembrano Già di aver sentito E visto E sentito Ma Sono già successi Eh sì Perché hanno avuto Anche loro successi A loro volta No? E quindi Il successo Per i prossimi 30 anni Di Gisella Quale sarà? Eh beh Io c'ho tantissimi progetti Ancora nel cassetto Ragazzi Cosa c'è qualcuno Dai Eh Com'è che Aspetta Elisa Com'è che dice Quella borsa Che abbiamo appesa L'idea L'idea nel cassetto Muorono di solitudine Quindi No no Io li sto piano piano Uscendo fuori Perché c'è un bellissimo progetto Quest'anno In Australia Posso dire questo Vai No no Nella mia città Di Melbourne C'è un bellissimo progetto Non posso Svelare niente Ma è bellissimo E è una cosa Per il futuro Ah Per il futuro Gisella Come back to home Per la musica Sì Per la musica Italiana Oh Per portare La cultura In Australia A Melbourne In particolare Quest'anno Per la lingua italiana E quindi È un progetto Che ha a che fare Con la lingua italiana Con la musica italiana Ed è molto Bello per me Poter ritornare In Australia Con un bellissimo Messaggio Per divulgare La cultura italiana Questo è sempre stato Il mio sogno Mio papà L'ha fatto Anche lui Con la radio Lui ha fondato Una radio italiana Negli anni 60 Ha fatto tantissime cose Vorrei Portare avanti Questa legacy Quindi Essere un vulcano È un'eredità Di famiglia Anche mia mamma Che fa l'attrice Ed è un volto Di una pubblicità Anche mio papà Era un volto Della pubblicità Dei mobili Io derivo Da due star Quindi Io c'ho un passato Di musica Di pubblicità E c'ho un passato Di voglia di fare E passione Per l'arte E questo Anche le mie sorelle Cantano tutti Ma io ho fatto Quella di professione Quella di più Diciamo di professione Ma in musica In famiglia Respiravamo Veramente musica Fish and chips Spaghetti Dico io Fish and chips Sì 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 Pasta asciutta Fish and chips E musica Questo era la mia Diciamo Le mie ingredienti Ecco Gisella Dove ho sbagliato Io mi sono fermato A spaghetti Ho fatto fish and chips Spaghetti No fish and chips E non sono andato avanti Fish and chips Ragazzi no Adoro Mi sono fermato lì Primo posto che vado Quando vado a Melbourne Stai in Chiuda Per mangiare I miei fish and chips E anche a Calton C'è un bellissimo posto Ti leggo un whatsapp Che è arrivato da Nello Che secondo me Spiega benissimo E su cui poi Potremmo salutarci Ma che dico Che secondo me È fondamentale Dici Nello Se penso che ci sono cantanti Che vivono di autotune E poi c'è Gisella Che alle otto del mattino A freddo Canta così Tanta stima Lascio a voi i commenti Grazie Guarda Per me è normale Come avere Se non canto Non ho un braccio Non ho una mano Quindi per me è naturale tutto Magari c'è qualcosa Di imperfezione Alle otto di mattina Ma ci può stare Ma non è che mi importa tanto Ed essere se stessi sempre Ragazzi Credere in quello Che si vuole fare Un'altra cosa Che mi ha sconvolto È che Gisella Si sente un po' il tuo accento Australiano Poi italiano Australiano Quando canta Scompare completamente L'accento con l'italiano O inglese No con l'inglese Anzi Lo dico meglio Quando canta in italiano Scompare completamente L'accento inglese Quando canta in inglese Sembra che si arriva Cioè Vivi ancora là Sì sì Perché io vivo ancora là Perché faccio un po' lì Un po' qua Però l'italianità in me Sono stata cresciuta Con la lingua italiana Perché mia mamma Mi portava anche la maestra italiana Dei 12 anni Quindi era proprio una cosa Un must Che noi figli Dovevamo conoscere bene L'italiano Quindi sono stata Super fortunata Per questo Perché mia mamma Voleva proprio Divulgare E continuare la lingua italiana Anche se c'era il dialetto Ma poi L'italiano Era insegnato a scuola Anche Anche perché ci sono degli spot Che erano quasi Veramente degli scioglilingua A volte Ho fatto anche una cosa Su Virgilio Che era in islandese Slang 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 Non mi ricordo Che c'era un coach Dall'altra parte della regia Che mi faceva da coach Slang Ragazzi ma non riesco A ripeterlo adesso In islandese In islandese Virginio Mi ricordo Virgilio La telefonia O qualche Quella era pazzesca Poi c'erano altre cose Di Bjork Ho fatto una cover Per Algida Mi ricordo Che era la concorrenza Della coppa Vabbè da Zamera È democratica Gisella Sì sì Comunque io ragazzi Ho cantato anche in italiano Quindi andate a vedere Il mio spotify Ci sono brani anche Internazionali e italiani Dove ho fatto questo Album double Che c'erano tutte le due versioni In italiano e in inglese Dei classici italiani Quindi Quando all'estero Magari canto più in italiano In australia Però in inglese Diciamo È stata la mia fortuna Qui poter cantare Dance E le mie pubblicità Che la maggior parte Sono tutti in inglese E insomma Allora Gisella Gisella Cozzo Questa qui con noi Questa mattina Grazie Grazie A voi A Crystal Radio Good morning Milano Thank you so much Grazie Grazie mille È stato molto molto bello Essere qui con voi E festeggiare Joy Joy Trent'anni di Joy Che appunto Ci andiamo a riascoltare Adesso Nel finale appunto Di questa tua presenza Qui in studio Che lascerà sicuramente stracci Perché è un terremoto Un vulcano Bellissimo È stato bellissimo Grazie a tutti voi Questa mattina E vedete Io di solito Devo essere la sveglia Io sono la sveglia Di quelli che ci ascoltano Invece sono i gisella Però nessuno pensa Chi sveglia a me Questa mattina Per fortuna è arrivata Gisella Quindi grazie mille Per la mia sveglia Del morning Di questa mattina Grazie a te Grazie mille Gisella Grazie anche a tutti voi Seguitela sui social Sul sito Insomma Accetto è tutto E seguitela anche in tour Se siete in giro per l'Italia Potete trovarla E quindi cantare insieme a lei Joy Dopo 30 anni Anzi Joy I feel good I feel fine La nuova versione Del trentennale Di questo storico brano E non la gay Dopo il vulcano L'uragano Gisella Cozzo Che è venuta qui in studio A raccontarci Questo trentennale Della canzone Joy La pubblicità La coppa del nonno Ma quanti di noi L'hanno ascoltata Potremmo dire Nella mia famiglia La coppa del nonno Era proprio la coppa del nonno Cioè mio nonno Impazziva per quel gelato Quindi era proprio Non per Anzi Devo dire che Da quando ero bambino Pensavo L'avessero chiamata così Perché piacesse a mio nonno Dopo ho capito Che invece era così per tutti Però lui impazziva E quindi io pensavo L'avessero chiamata così Perché Non sapevo leggere Quindi non sapevo Che sopra Chi do coppa del nonno Quindi pensavo La chiamassero così Nella mia famiglia Poi invece ho scoperto Essere veramente Il nome Di quel Mitico gelato Che appunto Ha visto Trent'anni fa Nel suo spot La voce Di Gisella Cozzo Raccontarlo La trasmissione Marchetta Ad esempio Nel pubblico Una sera sì Oggi 68 anni Buon compleanno Al Pierino Come lo chiamano tanti Punto Ma Piero Chiambretti Che insomma Non è Pierino Ma anzi È un grande Della televisione italiana Piero Chiambretti Tanti auguri 68 anni Auguri da Good Morning Milano Che insomma